Tutto ci dice che il mondo sta cambiando, anche quest'ansia che è arrivata e che ci ha turbato così tanto, l'annuncio che dà l'agenzia di stampanza delle dimissioni del Papa. Tutto ci dice che siamo, diciamo, dentro un tempo storico in cui non si può vivere con pigrizia, con indolenza culturale. Non so se mi spiego.